Se l'ho dato Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate oggi. L'episodio di oggi il Vangelo mette in rilievo la contestazione di Gesù e dei Suoi discepoli che nel passaggio vicino a un capo di grano raccolgono con le mani qualche spiga, ne sfregano i granelli per poterli poi dopo mangiare così. Ed ecco questo viene subito preso come pretesto per dire c'è la violazione del sabato, non bisogna fare alcun lavoro, per noi è evidente che non è un lavoro, ma costoro cercavano il pretesto per accusare Gesù e poterlo condannare, pretesti che poi venivano gonfiati, ingigantiti anche nella qualità delle cose. Gesù difende i Suoi e al tempo stesso annuncia qualcosa di grande, qualcosa di grande che potrebbe lasciare uno spinaglio di luce grande, uno spinaglio per loro che hanno le finestre chiuse, a costoro che non credono. E la definizione della questione è, in caso di necessità il sabato può essere violato. Poi fa un passo ulteriore, dice, oltre al caso di Davide e dei Suoi che mangiano del pane e dell'offerta, che è lecito solamente ai sacerdoti mangiare, i sacerdoti quando entrano nel Tempio si muovono, operano, fanno un lavoro, in realtà non violano il sabato, perché sono col Signore a servizio del Signore nel Tempio del Signore. Il culto di Dio, anzi, pur essendo un'attività anche molto pratica, no? Specie per i sacerdoti, non è un violare il sabato, ma è dare compimento al sabato, perché si va dal Signore per stare col Signore, per servirlo cultualmente o in altri modi. E l'affermazione chiave che Gesù ha è questa. Qui vi è qualcuno di ben più grande del Tempio. Sta riferendosi a se stesso. Si sta paragonando al Tempio e sta dicendo che il Tempio è inferiore a lui perché egli è il Signore stesso. E' come dire, il Tempio è l'edificio e si rende culto alla presenza del Signore nell'arca, il quale può manifestarsi, come al tempo di Mosè, apparire nella nube, parlare nella nube o mandare un angelo come a Cade, a Zaccaria, eccetera. Ma in realtà, Gesù dicendo qui c'è qualcuno di più grande del Tempio, vuole dire io sono colui per il quale il Tempio è stato costruito. Io sono la presenza, io sono il Tempio e il mio corpo. Distruggete questo corpo, questo Tempio, e io lo farò risorgere in tre giorni perché la potenza non sta nella parte umana, nel corpo, ma ciò che il corpo contiene, la divinità stessa di Gesù. Dunque, qui c'è qualcuno di più grande del Tempio, vuol dire che il sacerdote non compie una violazione del sabato, entrare nel Tempio per dare culto a Dio, i miei discepoli non compiono nessuna violazione del sabato perché sono con me, sono uniti con me. Altrove dice, lo sposo è con loro, non devono digiunare. nel momento in cui si fa servizio al Tempio, alla presenza del Signore, stando con Lui, servendolo, seguendo la Sua volontà, costruvano già raggiunto tutto quello che dovevano fare qua sulla Terra. Gesù è dunque la presenza stessa di Dio in mezzo al suo popolo, è colui che riempie anche il Tempio fisico. ed è per questo che fa la cacciata dei venditori dal Tempio, che facevano una spelonca di ladri, il luogo deputato al culto di Dio Padre. È la purificazione del Tempio, delle idee che ci sono, di ciò che si fa, e soprattutto è l'annuncio che quel Dio che si manifestava e si rendeva presente con Mosè nella nube, nella colonna di fuoco, quella nube che riempiva la tenda del convegno e Dio parlava faccia a faccia con Mosè, ebbene, eccolo qui in mezzo a voi, con il velo, non della nube, ma della carne, perché altrimenti voi morireste. E anche perché ci vuole la dignità, la santità, per poter stare di fronte a Dio, e questo la dà Dio stesso. Gesù sta dicendo, l'Emmanuele, il Dio con voi, colui che riempie veramente il Tempio costruito dalle vostre mani, colui che riempie il Tempio del vostro corpo, è qui. e voi state girando intorno con queste regole mal interpretate in senso restrittivo, senza comprendere il nocciolo della questione, senza voler comprendere il nocciolo della questione. Così anche noi, quando andiamo a rendere culto a Dio nel Tempio, c'è la presenza viva di Lui nell'Eucaristia e al tempo stesso nutrendoci, non con le spieghe di grano come i Suoi discepoli, ma con il pane reso Suo corpo, noi diventiamo un tutt'uno con Dio attraverso Gesù Cristo, e questo è il sacrificio di comunione, volendo condividere con Lui l'amore, dunque la volontà del Padre, dunque compiere le opere secondo lo Spirito, perché guidate e generate dallo Spirito, che sia servizio cultuale in una Chiesa, che sia catechesi, che sia insegnamento, che sia missione, che siano opere di carità materiale, tutto questo è compiuto con quella unione con il Signore che è nel Tempio ed è entrato nel Tempio del nostro corpo, e questa è la nostra vita nello Spirito, il vero culto di adorazione verso il Padre che parte dal cuore, perché il cuore nostro diventa il Tempio del Dio vivente, e il Padre cerca simili adoratori. Dio vi benedica.